Città della scienza, sviluppo, porto, scelte urbanistiche e criticità. La seduta del Consiglio Comunale di oggi è stata dedicata interamente alle questioni legate al futuro dell'area di Bagnoli. Si è trattato del primo di una serie di passi da compiere nel prossimo futuro, coinvolgendo anche le altre realtà istituzionali interessate. Ci sarà una svolta, io mi auguro che venga scritta una pagina storica dal Sindaco, dall'amministrazione e da tutto il Consiglio Comunale, anche per avere un mandato forte con il nuovo Governo per reperire tutti quei fondi necessari per completare la bonifica. Dopo la discussione, la seduta è stata rinviata e nei prossimi giorni verrà predisposto un documento che contenga la linea e guida su Bagnoli. Fra gli argomenti più attuali si sta facendo chiarezza anche sul futuro di Città della Scienza. Si è deciso di procedere rapidamente insieme, uniti, Governo, Regione e Comune per individuare nelle prossime ore il luogo che consente di realizzare nel più breve tempo possibile Città della Scienza. Quindi lo faremo nei prossimi giorni e poi la vocazione principale di quell'area, ritornando a Bagnoli, è una vocazione soprattutto naturalistica, paesaggistica, turistico, culturale, sportiva, riappropriazione degli spazi pubblici, Bagnoli e Bene Comune. Questo è il messaggio forte che ho voluto dare al Consiglio Comunale. In questo rientra anche Città della Scienza, è una ferita criminale che va immediatamente richiusa. I fondi ci sono, ci sarà un controllo pubblico su quei fondi, Governo, Regione e Comune, in modo da consentire alla Città della Scienza, nella sua piena autonomia, di continuare a fare quello che ha fatto. E poi chiediamo alla magistratura in modo autonomo di andare fino in fondo perché la città vuole sapere che cosa è accaduto con quell'incendio criminale.